Papa Francesco ha nominato padre Donato Ogliari, nuovo abate di Monte Cassino, finora abate di Santa Maria della Scala Innoci, in provincia di Bari. Sarà il 192esimo abate di Monte Cassino. La nomina del Pontefice è arrivata dopo 16 mesi, in cui l'abbazia è stata guidata dall'amministratore apostolico Don Augusto Ricci, in seguito alle dimissioni dell'abbate emerito Pietro Vittorelli. A Don Augusto Ricci, si legge in una nota di ramata dall'abbazia di Monte Cassino, vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto nella diocesi e in abbazia e al padre abate Donato Ogliari i migliori auguri per l'inizio di questo importante cammino. A padre Ogliari giungono anche gli auguri dell'intero consiglio comunale di Cassino. Esprimo felicità a nome dell'intero consiglio comunale, dice il presidente della massima sise cittadina Francesco Carlino, per la nomina di Don Donato Ogliari. La nostra comunità continua, torna ad avere una guida spirituale in un momento importante, che vede proprio in questo fine settimana le celebrazioni per il 50esimo anniversario dalla proclamazione di San Benedetto Patrono d'Europa. Un sincero auguri al nuovo abbate Don Donato Ogliari affinché possa adempiere al suo ruolo di guida dell'abbazia di Monte Cassino, con fede e passione, ed essere un punto di riferimento per i nostri territori, sono le dichiarazioni del sindaco dimissionario di Cassino Giuseppe Golini Petrarcone. Gli auguri sono arrivati anche dalle maggiori cariche istituzionali del territorio, tra cui il presidente della provincia di Frosinone Antonio Pompeo, il presidente di un'industria Frosinone Davide Papa, il numero uno della Camera di Commercio Marcello Pigliacelli e i consiglieri regionali Marino Fardelli e Mauro Buschini.